ecco buonasera a tutti consiglio comunale di giovedì ventotto settembre duemila e ventitré io comincerei col segretario comunale con l'appello giusto segretario allora si del aria presente siviero cizia presente in videoconferenza per te faccio una allora presente videoconferenza sofia cremo presente in video beatrice vado a in presenza analisa catozzi assente giustificata poi maurizio tettoni presente in video poi alex gavinelli assente non giustificata veronica finotti presente in video poi ritarna con le 6 assente giustificata a brescia anche assente giustificata e marchetti assente giustificato giustificata ok ok 6 c'è sussiste il numero legale e si può si può deliberare si può deliberare perfetto ma allora diamo avvio al consiglio comunale convocazione consiglio comunale in seconda questa è la seconda convocazione giovedì 28 settembre alle ore 19 cominciamo col primo punto all'ordine del giorno che è il punto diciamo numero 1 lettura verbali approvazione della seduta precedente come ricordo spesso è una presa d'atto quindi non si vota a meno che appunto un consigliere non abbia delle obiezioni legate ai verbali diciamo che c'è appunto il segretario che lui fa un sunto per iscritto di quello che viene detto nei consigli se un consigliere rileva che è stato scritto qualcosa di sbagliato qualcosa che non non ha mai detto insomma lo fa presente e si si apporta in questo caso noi non abbiamo avuto nessuna diciamo nessuna segnalazione e quindi è una presa d'atto non si si danno per approvati ok bene andiamo al punto numero al punto numero due comunicazioni del sindaco allora due parole siamo a fine settembre quindi un po' ormai l'estate già è già finita abbiamo fatto un po di eventi a san nazzaro volevo ricordarne solo un paio che sono andati molto bene anche soprattutto per fare i duverosi ringraziamenti festa della madonna della fontana noi ogni anno la facciamo una tradizione molto sentita come sanno magari alcuni di noi più tra virgolette anziani diciamo a san nazzaro tra l'altro in questo santuario bellissimo che come noi abbiamo anche persone magari da fuori vedono questi questi consigli venite a vederlo perché noi abbiamo questo santuario della madonna della fontana che è una cosa spettacolare santuario del 600 costruito sopra una fontana miracolosa quindi si fa questa questa festa dove ci sono appunto prodotti tipici e ovviamente comunque nasce come festa religiosa quest'anno abbiamo avuto l'onore del del vescovo che è venuto a trovarci ha presidiato la santa messa ed è stato veramente molto molto gentile perché addirittura ha colto i pellegrini ha fatto un pezzo di di strada di strada con noi quindi assolutamente come amministrazione noi ci sentiamo di ringraziare il vescovo per questo onore insomma che ha dato alla nostra comunità di di essere con noi vi era il vicepresidente della provincia di novara la dottoressa leoni c'era il presidente della provincia di vercelli gilardino tantissimi sindaci dei territori circostanti le autorità religiose civili insomma c'erano veramente tante autorità e poi c'era tanta gente e questo è una cosa molto bella perché queste tradizioni comunque sono la nostra memoria ed è molto bello anche a persone magari più giovani no come come noi che vengano vengano insegnate perpetrate e quindi un'ottima partecipazione abbiamo avuto veramente tante tante persone la chiesa era gremita ma anche i diciamo i volontari hanno riempito tutti i posti poi per la per i vari pranzi e questo è importante io ricordo anche una cosa che magari molti non sanno come dicevo ogni giornata ha avuto poi il pranzo e anche la cena con prodotti veramente squisiti chilometri zero del territorio cose veramente molto buoni sono una buona forchetta quindi dicevo che ho apprezzato però è molto importante poi esserci anche la parte diciamo mangere c'è un po perché si mangia bene ma soprattutto perché tutto il ricavato tolte le spese che viene appunto dal pranzo e dalla cena va poi per la manutenzione del santuario perché noi abbiamo tutte queste bellezze no nel nostro territorio ma ovviamente costa mantenere quindi c'è un comitato che il comitato della madonna della fontana che si autofinanzia con questo pranzo quindi importante poi anche ecco partecipare per dare una mano poi alla manutenzione del santuario un attimo che una collega era caduta ok e e quindi è andato tutto molto bene abbiamo avuto tante persone volevo ringraziare come amministrazione i volontari che senza di loro veramente non si riuscirebbe a fare niente il comitato don salvatore che ovviamente ha dato una una grossa disponibilità come fa come fa sempre il vescovo l'ho già ringraziato basta in mente qualcun altro spero di non dimenticare qualcuno ma insomma è tutti ovviamente i cittadini che hanno che hanno partecipato poi volevo dire due cose anche perché so che alcuni cittadini con ci tengono molto noi abbiamo ancora due specchi stradali passiamo adesso un altro argomento viabilità abbiamo due specchi stradali che ignoti vandali avevano rotto ormai diversi mesi fa troppi mesi fa che non sono ancora stati riparati sulla via principale della diciamo della via roma io voglio dirlo a chi vedrà questo video non ce lo siamo dimenticati noi abbiamo già appaltato i lavori di asfaltatura che quelli che abbiamo detto l'altra volta dove abbiamo siamo andati a coprire tutte le buche che ci sono nel nostro comune e anche sulle strade che portano al comune questa ditta poi sospeso i lavori per altri cantieri che aveva in concomitanza e adesso dovrebbe riprenderli all'interno dell'appalto c'erano anche gli specchi stradali proprio perché si tratta di avviabilità perché i lavori non sono finiti noi ricordiamoci anche il parchetto dove abbiamo fatto questo camminamento che era dovuto stato dovuto farlo per motivi di legge deve essere messo a posto non è finito così dobbiamo fare anche altri lavori di camminamento che dicevo l'altra volta e soprattutto manca ancora una cosa che vogliamo fare in questo lotto che la segnalitica stradale a terra che ormai è da tanti anni che nessuno la faceva più quindi è tutta ammalorata ecco tutti questi lavori rientrano nel lotto che si è giudicato questa ditta tra cui i due specchi stradali e quindi anche se sembra una cavolata di due specchi noi non possiamo diciamo comprarli e metterli noi perché li abbiamo già affidato questa ditta io ho già sollecitato diverse volte questa ditta oggi la ditta non diciamo non c'è ancora risposto adesso vedremo cosa fare perché capisco che c'è tanto lavoro però è giustamente noi qui siamo fermi e dobbiamo assolutamente riprendere il cantiere quindi chiedo veramente di avere ancora un po di pazienza se entro diciamo poco la ditta non si fa viva almeno per i per gli specchi e vorrà dire che il comune comprerà altri specchi e poi si arriverà sulla ditta a livello a livello legale ecco quindi non ci siamo dimenticati degli specchi poi l'ultima cosa poi finiamo con le comunicazioni sindaco ecco un altro evento che mi ero dimenticato anche qua volevo fare dei ringraziamenti qualche qualche giorno fa si è tenuto un altro evento che abbiamo fatto che praticamente l'abbiamo chiamato cibo e yoga è stata una cosa veramente molto carina dove con la collaborazione di una di un ristorante locale ristorante il sesia si è fatto un menù di prodotti tipici del territorio a chilometri zero e una nutrizionista una giovane nutrizionista sempre del paese ha dato delle utili informazioni su appunto il cibo i consigli cosa è meglio non fare e quindi è stata una cosa veramente molto interessante in più sempre nell'arco della giornata e sono fatti corsi gratuiti di yoga corsi gratuiti di tai chi cose con le campane tibetane insomma è stata una giornata veramente super rilassante è andata abbastanza bene abbiamo avuto diverse decine di partecipanti magari ne faremo ancora altro non so poi ne parleremo in maggioranza magari il prossimo anno e invito sempre i cittadini che vedono i consigli magari a venire a questi questi eventi perché noi li organizziamo per voi insomma per i cittadini e ed è sempre bello insomma che ci sia partecipazione basta io direi che le comunicazioni del sindaco sono 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 finite e passerei al punto numero tre che è da votare che è la ratifica della seconda variazione d'urgenza del bilancio di previsione deliberazione giunta numero 38 del 4 agosto 2023 se il segretario vuole dire ma giusto due parole sì sì come spesso succede la redazione delle voci di bilancio è demandata al consiglio comunale ma il tour prevede espressamente che per motivi di urgenza la giunta possa adottare i relativi atti e salvo poi la ratifica da fare da parte dello stesso consiglio entro 60 giorni per cui in data 4 agosto 2023 è stata fatta raggiunta numero 38 allo scopo di recepire appunto una voce fondamentale di bilancio concernente le maggiori somme relative al finanziamento per le opere pubbliche per la messa in sicurezza e sviluppo territoriale e quindi di conseguenza è stato incrementato anche lo stanziamento di spesa perché come è stato accolto dentro il bilancio questo finanziamento deve essere prevista anche dal lato della spesa per poter permettere i relativi pagamenti quindi si chiede con questo punto all'ordine del giorno al consiglio di ratificare questa giunta che è stata resa necessaria appunto stante l'imminenza del finanziamento e la necessità di provvedere quanto prima alla al affidamento di questi lavori quindi ecco se il sindaco vuole aggiungere sui sui lavori allora avevo inserito anche un allegato un allegato tutti tre uno due allora questa è l'entrata voce di spesa allora due informazioni diciamo su che cosa stiamo votando dunque questi sono una cosa molto piccola praticamente c'è un adempimento di legge sull'anagrafe abbiamo trovato devi farlo per forza una cosa burocratica non sto neanche a spiegare una cosa veramente più che per addetti ai lavori diciamo cittadino non cambia nulla siccome ha un costo perché ovviamente noi lo daremo a una società esterna perché il nostro personale non è non lo sa fare un adempimento nuovo abbiamo trovato questo bando che ci finanzia in modo che non pesi sulle tasche di cittadino cittadini quest'ulteriore quest'ulteriore cosa e quindi niente c'è la variazione in entrata dove noi recepiamo questo questo bando e questa spesa insomma e quindi ok una roba di 1600 euro circa poi invece la cosa importante è questo sono 300 mila euro allora qui anche qua vado velocissimo noi abbiamo una situazione in alla fine di via 8 marzo abbastanza precaria perché lì praticamente c'è un la roggia villata c'è un fosso e chi passa di lì vedrà che ormai credo da 15 anni insomma da tanti anni c'è una staccionata che appunto 15 20 anni fa l'amministrazione aveva fatto per delimitare questo fosso che è completamente venuta giù allora noi quando siamo stati eletti sono andato un po a vedere e abbiamo fatto fare un controllo da un geologo che dice attenzione e qui non è che è venuta giù la staccionata perché marcia era anche marcia ma non era quello il problema è che c'è uno smottamento in corso ok questo perché sotto c'è una perdita di un tubo che perderà probabilmente da almeno 15 20 anni e questo nel tempo ha fatto sì che ci sia proprio un cedimento strutturale di tutto quell'argine questa è una cosa molto importante perché lì sulla sinistra ci sono delle case e il geologo ha detto che avrebbero bisognava già intervenire diversi anni fa perché se si lascia la cosa così c'è il rischio che addirittura le persone che abitano lì abbiano una parte ci sono c'è il giardino ma anche un pezzo di muro di cinta una parte della loro proprietà che smotti assieme a tutta la strada dentro la roggia quindi una cosa abbastanza delicata ovviamente è un lavoro importante noi all'inizio siamo arrivati da quasi due anni non avevamo i soldi per farlo abbiamo risparmiato e anche grazie a un bando che ci aiuta che abbiamo abbiamo partecipato l'abbiamo vinto con molto lavoro riusciamo finalmente intervenire lì quindi si andrà a fare con questi 300 mila euro lordi e che poi sembrano tanti ma in realtà tenete conto che di questi 300 mila paghiamo anche l'iva che un'altra cosa assurda no che il comune deve pagare l'iva allo stato ma vabbè questo è comunque con questi 300 mila euro lordi noi andiamo a intervenire su quella zona di via europa dove c'è la roggia villata cosa andiamo a fare andiamo a sbancare tutto quello che è l'argine si rimette in in sicurezza si riparano i sottoservizi danneggiati quindi la perdita diciamo e una volta tutto riparato si ricostruisce l'argine ok in modo che sia tutto in sicurezza e anche le case di chi abita lì siano siano tranquilli contemporaneamente se ci bastano i soldi dovremo riuscire a fare anche l'asfaltatura e quindi rifare tutta l'asfaltatura fatta bene quindi non diciamo pezzi ma proprio tutto l'asfalto di quella zona i metri di asfalto non li sappiamo ancora perché stiamo valutando i preventivi in questo periodo però dovremmo riuscire a fare un bel po di asfaltatura e quindi si intervirà in quella zona lì poi c'è un altro piccolo pezzo che è un pezzo molto minore sempre della stessa roggia dove il geologo ha giudicato che anche lì bisognerebbe intervenire se ci bastano i soldi dovremmo riuscire a fare anche quello che è praticamente verso l'uscita del paese sempre dentro l'abitato dove c'è una chiusa dell'estesia lì praticamente aprono e chiudono l'acqua e praticamente quando aprono l'acqua sta mangiando tutta la riva c'è un problema poi anche per la chiusa quindi anche lì interverremo facendo appunto rifacendo l'argine mettendolo in sicurezza questi sono i lavori ecco questo è la variazione e appunto chiediamo la votazione se sì o no per poter effettuare poi questi questi lavori insomma quindi io adesso metterei a ecco l'ultima cosa ovviamente in questo caso lo vedete voterà la sola maggioranza mi spiace che questo lo devo dire che la minoranza in blocco nuovamente è stata assente mi spiace avranno sicuramente sono giustificati quindi hanno sicuramente degli impegni personali però spiace perché comunque come vedete diamo la possibilità di farlo in videoconferenza noi abbiamo dei colleghi adesso e questo va detto di maggioranza che avevano degli impegni lavorativi importanti e comunque hanno trovato il modo di essere presenti in videoconferenza per svolgere il proprio ruolo il proprio dovere e spiace insomma questa mancanza perché se noi oggi non fossimo qui il comune di san nazzaro perderebbe 300 mila euro di lavori e andrebbero bruciati e quindi è veramente sarebbe veramente un peccato anche perché i soldi ce ne sono pochi e questo volevo dirlo insomma e basta quindi metto in votazione il punto numero 3 ratifica della seconda variazione d'urgenza del bilancio di previsione deliberazione giunta numero 38 del 4 agosto 2023 io procederei con alzata di mano per chi è favorevole ok favorevoli tutta la maggioranza presente astenuti nessuno contrari nessuno 1 2 3 4 5 si c'è anche lei vede che si vede male ma è qua guarda dov'è è qua ecco la quindi tutti anche per l'immediata eseguibilità immediata eseguibilità chi è a favore ok tutta la maggioranza chi si astiene nessuno chi è contrario nessuno io direi che il punto all'ordine del giorno è approvato bene il consiglio comunale è concluso in quanto non ci sono altri punti all'ordine del giorno io saluto tutti ringrazio i presenti per la professionalità di essere di essere qua e auguro a tutti un buon inizio anno lavorativo visto che insomma ci siamo e anche un buon inizio scolastico sono per chi lo ci guarderà grazie adesso stoppo la registrazione grazie a tutti buona serata ciao 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 ciao